In San Konichiwa, sta veramente bentornati su Harusan per parlare ancora una volta di yokai, le terrificanti creature del sollevante. Oggi facciamo la conoscenza di Sazae Oni, il demone mollusco, conchiglia, un nome che direi è già tutto un programma, una grottesca creatura marina, quasi spezzale, mutaforme, che si manifesta dal corpo di animali con il guscio a conchiglia, a spezzale, tipo una lumaca, dopo 8 anni di vita. Esatto, oggi vi sto per parlare di una ragazza lumaca. Cosa fa? Perché si manifesta o altro? Lo scopriamo adesso, a brevissimo. La prima, sguardo alla vignetta qui sopra per ricordarvi di contribuire alla crescita del canale, iscrivendovi, commentando, mettendo like, condividendo, tutta questa roba va, è ben gradita. Inoltre, se avete richieste riguardo altri yokai da fare, lasciate pure scritto sotto i commenti, che magari ci scappa un video in futuro. Ora entro e poi pronti a fare la conoscenza di questo yokai mollusco, che si tratta sotto il nome di Sazae Oni. Sazae Oni, letteralmente demone della lumaca turbante, una specie di mollusco dalla conchiglia spirale ben presente in Giappone e anche commestibile, si tratta di una creatura che nasce dal corpo di questo animale spiraliforme, o suoi simili, tipo paguro, dopo aver superato 8 anni di vita, si dice 30 anni di vita, la soglia dei 30. Come capita per gli oggetti, anche alcuni animali, invecchiando, possono mutare in qualcosa di soprannaturale, acquisire poteri, in questo caso un animale a conchiglia. Ma c'è anche una seconda origine, non solo gli anni. Si dice che sia una ragazza molto focosa, lussuriosa, avete capito? No, piena di passione, passionale, ecco. Comunque, se questa è troppo passionale, viene gettata in acqua come punizione per frenare i suoi bollenti spiriti. Ebbene, il suo corpo ritorna dalle acque sotto forma di Sazae Oni. Questa si trasforma in una mostruosa creatura umanoide dalle sembianze di lumaca spezzale, con il guscio aspirare sul capo, in genere sul capo, che vive sugli scogli oppure volteggia, danza sulla superficie dell'acqua, ammaliando chi naviga nei rintorni. Diciamo delle fanciulle conchiglie in breve, sì, credi sì. Il loro aspetto non è il massimo, parliamo più sempre di una ragazza lumaca, un'altizia cozza, che cavolo pretendiamo, ma hanno l'incredibile abilità di poter cambiare forma, ed è qui che ti fregano, in modo da attirare a sé, ignare la gente e divorarla. Già, già, sono mortali questi esseri, niente di no. La parola demone, oni, non sta lì per niente. In genere possono mutare le proprie parti del corpo con quelle di altri molluschi, pesci, crostacei, tipo mettere chele, tentacoli, ma la loro trasformazione preferita è quella di una splendida fanciulla che ammaglia la gente. Una ragazza che si dimostra in difficoltà, in mare aperto, come se stesse avvocando, aiuto, aiuto, in modo da attirare i navigatori che la vogliono salvare. Ma, sospresa, una volta tirata sopra l'imbarcazione, svega le sue carte e si cilva dei soccorditori. Ma non solo, usa questa abilità di mutare in donna anche per poter camminare sulla terraferma, vagabondare tra la gente comune. Eeeh, sì, anche lì bisogna stare attenti. Sto riparando di questa creatura che, recandosi spesso nelle locande a riposare, attendeva la notte per cibarsi del locandiere o altri viaggiatori che passavano di lì, forse può ritornare nelle tue espianze la notte. oppure semplicemente per passare inosservata. Che ne so, tu ti trovi in camere tua bello a riposare, si presenta questa bella ragazza che vuole giocere con te e tu che fai? Cedi alla tentazione per poi ritrovarti al buio a fianco a questa lumaca. Va, nel buio della notte, svega le carte e ti trovi con sta cosa ollo. Eh, non so, testificanti. Alla fine è più sempre un termine, ripeto. Certo, non è che divora sempre gente, eh. Magari qualche volta sono innocui o si divertono semplicemente a volteggiare in mare, rubare tesori o giocare scherzi. Le sue raffigurazioni salgono al periodo Edo, ma è possibile che già in precedenza fosse noto. Una famosa leggenda riguardo questa creatura parla di alcuni pirati situati allungo le acque della penisola di Chi. Una notte, questi videro in mare una splendida ragazza che stava per annegare e non ci pensarono su 27 volte prima di godere in suo aiuto. di certo non per bontà d'animo, ma per sfogare i propri istinti sessuali. Allora, una volta sulla nave, la franciulla finì per essere soggiocata dai pirati, giacendo con ognuno di loro. Ma in realtà, la ragazza si trattava proprio di uno di questi demoni che aveva mutato la sua forma in una ragazza dopo aver avvistato gli ignali pirati in lontananza. Quindi, dopo ogni rapporto, con le sue mani mutate in chele, zac, zac, privò i pirati dei propri testicoli, detti kintama in giapponese. Kintama, parola che può significare anche palle d'oro. Così, il demone, raccolti tutti i kintama dai pirati, chiese in cambio un tesoro per distribuire ciò che aveva rubato. In pratica, oro in cambio di oro. I pirati alla fine si ritrovarono costretti a dar via tutto il tesoro trafugato in cambio delle loro parruccelle. Bisogna dire che si compostano un po' come succubi. Amari, non si educono in modo da avere in pugno la propria preda e fare poi ciò quello che vogliono. Ma perché proprio i testicoli? Si pensa che da quelli il demone possa generare nuovi sazaioni. E non è stata nata nel corso dei secoli e non si sa se appunto trova veri riscontri con il mito originale. Poi, come dicevo prima, ci sono appunto le storie di locande che hanno visto la scomparsa di personale o clienti in seguito al passaggio di questa creatura che nel cuore della notte appunto ci banchettava. Beh, come è mai nata questa creatura? Un po' difficile da dire. Forse come vendetta verso gli esseri umani perché si cibano appunto di queste creature? Non saprei proprio. Comunque, per concludere l'argomento, per chi segue la serie Pokémon si può dire che una sua citazione si può individuare nelle diverse evoluzioni del Pokémon Slowpoke. Bene, gente, che ne pensate di questa sazaioni, il demone lumaca? Commentate pure sotto al video e ditemi la vostra. La conoscevate oppure no? Fatemi sapere. Io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Matanè! Mi raccomando, non mancate. 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 Grazie.